Il maestro Patrizio Piovino, il coro ha intrapreso il viaggio artistico che tocca come tappe diversi generi musicali, rileggendo i vari successi che hanno il tuo aspetto moderna, pesa alla tendenziale di valorizzare l'etereogenità locale dei componenti. La musica è l'arte di suoni ed è fondamentale nella vita e perché la musica trasmette amore. musica, madre mia, quando venivesti al mondo il mio primo regista Filippa, ti ricordi l'inizio? Un là, un là, un là. Le altre note me li ha insegnati dopo, li ha imparato con fatica, con rabbia, camminando a piccoli passi su quel sentiero ilto di difficoltà, un sentiero di eva, un passo bianco e non nevo, uno bianco e non nevo, attento con ritmo precisi. Oggi questo sentiero è splendido, luminoso, ci passeggio, ci respiro, ci canto, ci suono e io percorro su e giù con sicurezza, con giugna immensa e non qua con il mio più dove metto il piede tanto che cosa sia bianco, ma che è la mia. ma che è la mia, mantenia il tuo signo, la lingua di e la mia, ma che è il Catharia d'incendio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.